Quando gli altri saltano a scuola Fra, come sta andando a scuola? Guarda, lascia perdere, è una noia mortale Buongiorno, verifica a sorpresa Bene, pure verifica a sorpresa Oddio, che culo Quando io salto a scuola Fra, allora com'è andata oggi? Fra, sono fuori casa tua, aprimi immediatamente Fra, che succede? Fra, non si può credere, è successo il panico E va bene, che è successo? Allora, l'anzitutto la prof era malata e quindi la verifica non si è fatta E vai! Ammazza che culo Poi è arrivato il supplente che era ricchissimo e ha regalato a tutti degli iPhone E cosa? Degli iPhone? E si è regalato pure dei pc da gaming nuovi Non ci posso credere Aspetta, poi ha comprato tutti i biglietti aerei per Hollywood perché è riuscito pure a riportare in vita Michael Jackson Guarda, c'ho pure la foto Ah, io guardavo da scuola, non succedeva niente La salto, Michael Jackson torna in vita Poi cosa è verità? E poi la salto è verità